Musica Chi c'era qua tipo nel 2010-2011? Scusa ma io sono da vicino Madonna C'è arrivato Nel 2011, quindi un bordello di anni fa E' uscito un disco Che in realtà non si è cagato di pezzo a nessuno Abbiamo suonato veramente i posti scusi Però praticamente c'era un posto Dove quel disco qualcuno se ne è cagato E quel posto era l'Urban Allora Qualcuno si ricorda un disco chiamato Cavalli? Beh Questa canzone fa parte di quel disco Si chiama Copernico Grazie a tutti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no już Raga Se c'è un motivo E ce n'è veramente uno solo Per cui dopo tutti questi anni Ancora suoniamo questa canzone Del cazzo Il motivo è che c'è una frase Che passa dagli anni E è sempre qua Vaffanculo Cresci nel tempo E poi migliora Con il cazzo, raga sempre peggio e la frase è la seguente e la frase è la seguente e la frase è la seguente